C'è voglia di normalità anche nel metapontino, questo ci ha detto la maggior parte delle persone che mercoledì pomeriggio si è riversata sul lungomare di Metaponto per fare una semplice passeggiata. Complice una bellissima giornata di sole e di festa, in tanti ne hanno approfittato per uscire all'aria aperta. Quasi tutti con indosso la mascherina, magari abbassata mentre si cammina e senza particolari assembramenti lungo il tragitto, rispettando ancora le regole che le istituzioni raccomandano. C'è chi si è fermato anche per pranzo, chi per un aperitivo o un caffè. Dopo molti mesi di limitazioni e di divieti per evitare la diffusione dei contagi, anche nel metapontino si desidera tornare alla normalità e una passeggiata può essere davvero un buon inizio. Ma per ricominciare davvero a riassaporare la continuità di questa riscoperta normalità, bisogna ricordare sempre di continuare a rispettare le regole anti-Covid.